venerdì 5 dicembre 2014 zanzibar ora si dà di 18 18 18 e 19 siamo su un terrazzino eccolo che usiamo per fare attività come rilassamento risveglio muscolare chikonga che hanno fatto oggi yoga qua c'è il villaggio vero regia sì no c'è il mare la regia aspetta che la riregistro allora qua c'è il villaggio regia no bene qua quasi quindi qua vedete il villaggio come vedete non so se lo vedete ma la regia non lo vede qua invece c'è una piccola pozzanghera chiamata oceano indiano ah ecco qua sì c'è anch'io l'avrei detto sicuramente e tra un po dovrebbe esserci un fenomeno detto tramonto so se avete mai assistito a queste cose sentite il rumore del risciacquio ma anche qua c'è un piccolo oceano giusto regia e il sole e i passerotti sono su quest'albero sono su quest'albero il mio zaino è qua io ho uno zaino ho anche dei piedi che vi risparmio ciao